Non ci fu alcuna estorsione né manomissione, dopo 11 lunghissimi anni sono cadute tutte le accuse nei confronti dei vertici dell'azienda Di Nino Trasporti, assolti nella mattinata di eride giudici della Corte d'Appello dell'Aquila. La sentenza assolutoria è arrivata in particolare per l'amministratore Piero Di Nino dall'accusa di estorsione e manomissione dei crono tachigrafi. Secondo l'accusa Di Nino si era reso responsabile in almeno due degli episodi contestati di estorsione, ovvero di aver costretto i suoi dipendenti a installare dei magneti sui mezzi della ditta per taroccare gli orari di lavoro e di pausa minacciandoli, se non avessero obbedito, di farli lavorare di meno o per niente. Nulla di tutto questo, poiché il castello dell'accusa è stato destituito nella forma e nella sostanza vista l'assoluzione in formula piena. In primo grado era già caduta la più grave accusa del voto di scambio. Assolto anche l'altro amministratore Stefano Di Nino dall'accusa di manomissione dei crono tachigrafi, che secondo la procura aveva portato alla violazione della sicurezza dei lavoratori. Assolti tutti gli altri imputati autisti. Per undici anni abbiamo portato avanti una battaglia per vedere accertata l'assoluta innocenza. Oggi la corte ha colto le nostre ragioni restituendoci serenità. Hanno commentato con soddisfazione della Di Nino Trasporti, che è stata difesa in giudizio degli avvocati. Roberto Borgogno, Antonella Di Nino, Angelo Pacio e Amedeo Ciuffetelli finisce un incubo giudiziario. Grazie.